Ciao bimbi, sono la maestra Michela della classe Viola. Eccomi qua, ancora con una storia di Mucca Mocca, che stavolta, guarda un po', vuole fare la postina. È una postina un po' speciale. Oh, la postina Paola ha l'influenza. La Mucca Mocca le porta una cioccolata calda, e Mocca le dice, tu pensa guarire, alla pasta, ci penso io! Vedete, già si vede, oh, già si vede col cappello la postina. Ci dà molto da fare Mucca Mocca, eh? Infatti, eccola, Mucca Mocca, si mette il cappello da postina e va ad aprire le poste. Oh, mamma mia, quante lettere! Pacchi, cartoline, tutte cose da consegnare. Uh, quanto lavoro! Per il gentile signora... Un uccellino. La prima lettera è molto grande. Per forza, dice il signor Piumino, me la manda la balena Antonella. Ma dai! Caro Piumino, come stai? Io sto molto bene e ti scrivo distesa sul fondo del mare. Mamma mia, è difficile leggere una lettera così gigante. E a dire la verità, fa un po' freddo, ma io sono una balena grassoccia e non lo sento. Perché non mi vieni a trovare? A trovare? Oh, la tua amica balena. Come sarebbe a trovare? Vieni a andare in fondo al mare. Porca Peppa! La seconda lettera è della Pulce Santina. Oh, che piccole che sono le pulci! Per il cane, Donato. Dove sei, Donato? Boh! È per me! Sì, sì, è per te! Non ci crede questo cane che è per lui. La lettera è così piccola. Donato crede che sia un francobollo. Ma, ma, è piccolissima! E se l'ha scritta la Pulce, e la Pulce è molto piccola. Sulla lettera per la nuvola, Ophelia, c'è scritto Per via aerea. E così, con tanti palloncini colorati, Mocca viene sollevata fino al cielo. Ophelia la vede arrivare. Grazie, Mocca! Che brava postina che sei! Oh, oh, oh! Ora Mocca è un po' preoccupata per il gufo Gabriele, perché la lettera del gufo Gabriele è molto rovinata. Gufo Gabriele, dove sei? Ma perché è tutta rovinata? Ah, ecco perché! Niente paura, dice Gabriele. È mio cugino Picchio. Lui bucca le lettere col suo becco. Tic, 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 tic. È per questo che è rovinata. Che ridere! Ma il gufo, il nostro gufo Gabriele, sa benissimo come leggerle queste lettere, tutte buccherellate. E poi, e poi, per il signor Leo Porcello. Sì, c'è un invito a pranzo! Wow! Leo però non accetta e Mocca dice Beh, sei un maialetto saggio, anche perché mi sembra che questo invito a pranzo, come dire. È un signore che secondo me quello lì se lo vuole mangiare il nostro porcellino. La busta per il mago Eugenio vola da sola nell'aria e Mocca pensa che si è stregata. Ci picchia. Il mago le spiega Dentro c'è il mio nuovo tappeto volante. Lampi e tuoni! Che succede? Che paura! In questo pacchetto c'è rumore di tuono! Mocca corre a consegnarlo al signor Prato. Finalmente è arrivata la pioggia. Adesso il prato è felice. Beh, Mocca Mocca scappa perché non mi sembra tanto bello. Eppure guardalo! Sì, il prato dopo l'acqua si è riempito di fiori. Ah, che meraviglia! E queste? Sì! Il prato dice di portare questa lettera alla peregina e a tutte le api c'è scritto vi regalo un barattolo di miele e uno anche a Mocca perché è stata brava e se lo merita. Eccola che se lo ciuccia tutto. Buono il miele! Ah, che brava postina che è Mocca Mocca! Ma non ci posso credere! Deve portare la posta fino alla luna! C'è una luna molto magrolina! Non è la luna piena! E la luna magrolina gli dice Eh, tra 15 giorni sarà rotonda! Uffa! Va bene! Intanto te la do a te! Gli mette la lettera sulla punta della luna. Anche il gatto lide! Mocca è felice perché l'ultima cartolina è per lei! Eccola, piccolina! E la cartolina del signor Acqua! Mocca ha finito il suo lavoro! Domani ritornerà la postina Paola che guarirà dal raffreddore. Che bello ricevere cartoline! Eh, finito! Fate un saluto al signor Acqua! Ciao, ciao! E pescetti! Attenzione! Pesci! Pesce d'Aprile! Ciao, bambini! Un bacio a tutti! E chi ha voglia può disegnare la mucca moka con gli occhioni rotondi e orecchie di qua e di là e due piccoli cornetti e qui si sta pappando tutti i fiori del prato. Io aspetto i vostri video perché mi piacciono tantissimo! Mandate un video con i baci, con i saluti che la maestra Michela li guarda tutti! Ciao, ciao bambini! A presto!